e benvenuti a tutti e a tutti al centro sociale Pedro, siamo qui per la seconda giornata del Sharebooks Festival, il festival dell'editoria indipendente, per la presentazione del libro La monogamia dei calzini con Giulia Pretta. Giulia, oltre ad essere una scrittrice, ecco fondatrice della scuola di scrittura chiamata Martine Eden di Padova, tiene corsi di scrittura creativa ed è editor di narrativa. Dal 2011 collabora con le riviste online, critica letteraria e la rivista intelligente. Benvenuta Giulia. Grazie Elena, è un piacere. Allora, prima di addentrarci nel cuore del romanzo io dedicherei qualche parola alla casa editrice per cui edito il tuo libro Le Plurali. È una casa editrice molto giovane, nata nel 2021, che si definisce nel suo manifesto una casa editrice femminista, indipendente, inclusiva e curiosa. Pubblica saggi e romanzi esclusivamente di autrici. Questa è una scelta eh specifica proprio di rottura con quello che è un sistema eh anche quello dell'editoria ancora purtroppo non esclusivamente ma maggioranza maschile e quindi le editrici hanno fatto questa scelta di mettere al centro delle loro pubblicazioni le voci e i racconti delle donne. E allora io volevo chiederti come si sono incontrate le vostre strade e come il tuo romanzo rientra in questa direzione che ha preso la casa editrice. Allora, quando ehm in realtà la storia arriva da lontano su come le ho le ho conosciute. Non so neanche loro se se lo ricordano in realtà perché io la prima tra loro che ho conosciuto è Anna Suni che è una delle quattro fondatrici ed è la responsabile delle delle grafiche. Quindi le bellissime copertine pop che vedete sono tutte ad opera sua. E Anna molti molti anni fa aveva illustrato un un mio racconto e mi era piaciuta tantissima la sua illustrazione tant'è che avevo pensato caspita se dovessi poi mettermi a scrivere romanzi eh una copertina la vorrei fatta da lei proprio perché rappresenta quello spirito pop che mi piace trasmettere cerco di trasmettere con con quello che scrivo. E quindi quando poi ho visto che Anna aveva avviato questa questa casa editrice e che erano aperte anche le selezioni c'era la possibilità di mandare il proprio manoscritto io avevo questo testo il famoso testo nel cassetto insomma e ho pensato che ci sarebbe stato bene perché la monogamia dei calzini ha avuto una gestazione molto molto lunga non sono particolarmente veloce nello scrivere e quindi ha passato anni di sedimentazione e l'avevo lasciato lì nel computer nel cassetto in attesa che ci fosse proprio la casa editrice che mi in cui sentivo che quel testo sarebbe andato bene e quando appunto ho visto la Anna che aveva aveva avviato questo progetto ho pensato vorrei che la copertina la facesse lei proprio non riesco a vederla da nessun'altra parte tant'è che questo testo l'ho andato solo a loro non avessi ricevuto una l'approvazione insomma non fosse andata in importo la cosa sarebbe rimasto lì nel cassetto non avrei avuto grosse grosse difficoltà e un'altra cosa che mi aveva molto molto convinto era anche il processo di selezione diciamo perché ogni casa editrice ha poi ovviamente le sue le sue modalità però li veniva richiesto proprio di raccontare il progetto editoriale spiegare perché il testo si lo potevo considerare considerare femminista e quindi in in linea e quindi già fare chiarezza già riuscire a raccontare così bene il mio progetto insomma mi aveva mi aveva incoraggiato e poi visto che ormai è passato un po di tempo sembra quasi poi una sceneggiatura cinematografica no perché mi ricordo anche quando mi è arrivata la risposta perché ho mandato prima il capitolo il capitolo iniziale e correva il 4 di luglio ed ero a mestre ero andata a trovare un'amica e pioveva e aspettavo il tram che per riportarmi da venezia a mestre il tram non arrivava perché era mezzanotte ed era un disastro e diluviava e per far passare il tempo ho detto vabbè scarico la mail e c'era la risposta di clara che poi sarebbe stata la mia paziente editor in tutto il il processo in cui diceva che l'incipit l'era guardo verso l'alto perché è di là poi trovate il banchetto nel plurale da quella parte ciao clara e che diceva che il primo capitolo era era piaciuto e quindi se potevo mandare il il testo successivo ho mandato tutto il testo e siamo qua e ho la copertina di anna finalmente che straordinaria perché la figura poi ha ai capelli raccolti a scignonna che un po rimanda alla figura di evacante perché diabolica un ruolo molto importante all'interno del del romanzo quindi quando ho visto questa donna con questo scignonna alice poi la protagonista ha i capelli ai capelli corti però l'ho visto sembra evacante castana fantastica è lei quindi era proprio destino sì grazie giulia allora entriamo nel cuore del romanzo la monogamia dei calzini è una storia d'amore alla fine tra alice e alberto è una coppia in cui possiamo tutti un po riconoscerci ma la cui vita viene stravolta da una diagnosi in fausa infatti alberto scopre di avere una forma di alzheimer precoce e questa condanna alla fine non cade solo su di lui in quanto malato ma anche proprio su alice che è chi se ne deve prendere cura e appunto è sul personaggio di alice che io adesso vorrei un po concentrarmi può risultare appunto a volte come dicevamo prima chiacchierando un po antipatica è molto sarcastica molto concentrata su se stessa e a volte un po fredda però in realtà è un personaggio vero perché nel momento in cui si trova a dover affrontare la malattia del compagno non è la super donna che riesce a fare tutto che ha questo senso di cura innato per cui le viene tutto naturale no alice alla fine è una donna che ha molti pensieri meschini o comunque si trova in difficoltà spesso deve capire come muoversi per gestire il compagno e la malattia che avanza e allora io vorrei proprio che ci parlassi di alice e soprattutto di questa donna che hai descritto nel ruolo di caregiver che si discosta un po da quello che è lo stereotipo della donna caregiver allora ti ringrazio di aver detto solo che è un po antipatica io ho apprezzato un po il diminuendo della della cosa perché alice non è simpatica mettiamola così non sta particolarmente simpatica anche anche a me perché è come non voglio scivolare non mi arrogherei neanche proprio il diritto nella cosa flobertiana dell'alice semua perché no per carità però ci sono all'interno di alice va da sé caratteristiche che sono anche anche mie e quando la leggo un po come quando ti guardi allo specchio ci sono delle caratteristiche di te che non ti piacciono lo sai che non sono i tuoi punti di forza proprio però a ci devi convivere ci puoi fare poco su certe cose e b sono dei punti che magari a volte ti possono ti possono essere utili da da qualche parte e il fatto che alice sia così ironica sia così sarcastica sia anche così fredda tutto sommato la l'aiuto è un po uno schermo uno scudo che la può aiutare poi quando arriva questa questa diagnosi e quando poi deve fare i conti con con tutta la situazione non è una brava caregiver o meglio non è che ci siano bravi o caregiver bravi o non bravi nel senso che quando ti trovi davanti a una cosa di questo tipo che non ti aspetti perché pensi sempre che a che non succeda perché una diagnosi di alzheimer precoce pensi che non succeda e b che non succeda a te perché è assolutamente inconcepibile non c'è un modo giusto o sbagliato di di reagire devi capire fin dove puoi arrivare fin quanto ti puoi spingere e anche fin quando a un certo punto devi devi lasciare andare ma una cosa su cui mi piaceva ragionare perché ripeto questo romanzo ha avuto poi una gestazione veramente molto molto lunga non sono tantissime pagine ma ripeto sono lenta e non essendo come Dumas che devo pubblicare ogni tot perché sono carica di debiti o tipo balzac che devo bere 50 caffè al giorno per stare sveglia per scrivere per pagare i creditori e la prendo con calma di solito comunque durante la stesura mi capita un articolo sottomano su una settimanale rivolto a un target femminile non una rivista di gossip comunque anche una pubblicazione di un dettaglio di taglio importante erano il periodo del primo lockdown credo e stava raccontando dell'esplosione dell'ascolto dei podcast perché anche chi non ascoltava podcast nel dal marzo al maggio del 2020 siamo diventati tutti dei consumatori voraci veramente in questo articolo ragionava su che cosa fanno le persone mentre ascoltano podcast e si diceva che gli uomini ascoltano il podcast mentre vanno al lavoro mentre stanno aspettando imbottigliati in macchina mentre fanno la pausa caffè tra una riunione e l'altra insomma era connotato in maniera molto binaria diciamo mentre le donne ascoltano podcast mentre controllano che la crema per il sugo non si attacchi mentre danno un occhio alla mamma malata che nell'altra stanza era un pezzo giornalistico non eccezionale tra tra queste cose che comunque andava a sottolineare che la cura stava alla donna se ascolti podcast o no insomma comunque la cura della famiglia stava stava sempre a te e quindi sorge spontaneo il ragionamento che non si nasce care giver cioè non nasci proprio con l'istinto del mi devo prendere cura cura degli altri non è così naturale e soprattutto si è unita a una lezione data dallo scrittore pontigia che nelle sue riflessioni sulla scrittura sono uscite in radio a inizio anni 90 sulla radio della rai non mi ricordo se a radio 1 o radio 2 comunque dove ragionava che quando tu scrivi dei sentimenti dei personaggi devi andare oltre la superficie sotto la superficie anzi e lui faceva l'esempio della del bambino che perde il nonno a questo bambino dell'elementare ipotetico personaggio muore il nonno e quando va a scuola tutti lo lo trattano con cura nel senso la maestra non lo sgrida più di tanto i compagni gli prestano i pennarelli colorati qualcuno gli porta una caramella e il bambino è sì tanto dispiaciuto di quello che è successo gli manca il nonno sta soffrendo però sotto sotto si sta un po godendo questa attenzione cioè gli piace essere in questa situazione un po particolare in cui al centro dell'attenzione ed è trattato con i guanti questo è il concetto appunto di riflettere su quelli che sono i sentimenti non immediati e non scontati nella scrittura di un personaggio e ho cercato di fare questo anche con alice perché alice comunque è in una coppia ed è in un rapporto dove sono molto innamorati questo lo ribadisco e lo ribadirò sempre che loro sono quella che per me la rappresentazione dell'amore ideale non è perfetto ma sono il tipo di relazione di coppia ed amore che per me è al livello a livello massimo e quindi lei per questo amore fa comunque cioè accetta il fatto di dover cambiare abitudini di vita di dover cambiare anche tipo di arredamento all'interno della casa perché con un malato di una malattia neurodegenerativa devi avere tutta una serie di di attenzioni e di e di precauzioni però dentro di sé non può negarsi di pensare ma perché cavolo non si è ammalata la sorella che anche mi sta antipatica tra le altre cose perché con la sorella non va molto d'accordo perché molto religiosa molto molto inquadrata non può negarsi di pensare che il terapeuta lo psicologo che segue alberto sia un bell'uomo e vorrebbe andarci a prendere un caffè perché vorrebbe stare con uno da cui non deve sempre controllare il riflesso della deglutizione e vuole chiacchierare di qualcos'altro senza magari anche doverlo ripetere cinque o sei volte durante un litigio gli può anche urlare che è contenta che non abbiano avuto figli perché nessuno vorrebbe un figlio da un malato di mente lo chiama così lo chiama in maniera volutamente errata e volutamente offensiva perché questi sentimenti sono meschini sono brutti non li vogliamo riconoscere così come quando guardiamo allo specchio non vogliamo vedere le cose che non ci piacciono però sono lì e non è che le neghiamo ecco non non serve negarle tutto qua e volevo che alice queste cose le portasse fuori non è simpatica no niente ma proprio per nulla comunque ci sei riuscita se questo era l'obiettivo assolutamente e grazie giulia andando avanti io diciamo possiamo dire che il romanzo si divide in due parti c'è una prima parte definita al passato in cui eh seguiamo la storia d'amore di alice e alberto come si conoscono come procede e poi il presente in cui invece si vive la quotidianità eh con la malattia di alberto a dividere queste due parti c'è un capitolo chiamato intermezzo in cui appunto questa ironia questo sarcasmo che contraddistingue alice ma anche tutto il romanzo eh è all'ennesima potenza perché alice comunque comincia a dubitare della salute mentale di eh alberto durante un definiamolo un rendezvous sessuale lei rimane ammanettata a letto e alberto non trova più le chiavi quindi una situazione drammatica perché si capisce che qualcosa non va in quest'uomo però usando una chiave diciamo ironica e quindi io ti chiedo come mai hai scelto queste scamotage per raccontare della scoperta di una malattia tanto drammatica e e niente allora sì questa è la primissima scena che ho pensato proprio il romanzo si sviluppa da questo anzi si sviluppa dal primo capitolo e che a lei alice trova alberto che è andato a ballare in una sala di tango e praticamente lo riseduce cioè lui non la riconosce e lei si fa invitare a ballare fino a che poi lui non ha uno sprazzo di riconoscimento e capisce che è la donna conquista da dieci anni e lei si vanta e dice ma chi dice che non si può tenere vivo il rapporto in una relazione cioè posso affascinare il mio compagno anche dopo dieci anni basta soltanto un pizzico di alzheimer quindi quella è stata la prima scena la seconda invece nasce proprio dal fatto che ma anche nei prodotti televisivi uno dei grossi riferimenti che io a livello di narrazione e che viene citato molto spesso è grace anatomy non so quanti siano rimasti sotto questa questa serie che ormai vedo mania ottimo ottimo ormai è sopravvissuta a se stessa purtroppo per me c'è stata una puntata in cui poi da quel momento lì l'ho abbandonata perché non ho mai perdonato un determinato colpo di scena che non vado che non vado a dire perché vabbè ormai sarà la conoscenza di tutti ma comunque e una delle prime cose che si fanno vedere solo fa vedere quando derek si preoccupa che meredith possa essere possa portare il genere dell'alzheimer che lei non trova le chiavi che ce le ha in mano e lui dice tutte le volte che meredith non sa dove ha messo le chiavi io ho paura che le stia le stia venendo l'alzheimer che è una di quelle preoccupazioni è una battuta che faccio anch'io a casa nel senso dio dove ho messo le chiavi non le trovo più mi sarà già venendo l'alzheimer ogni tanto la butto lì fossi fortunata da riuscire a vederci senza occhiali sarei una di quelle che non si trova gli occhiali sulla testa però non ci vedo niente quindi devo averceli sempre sempre addosso e quindi quali sono le chiavi che possiamo avere in casa non tutti però che possiamo avere che poteva essere una declinazione divertente viene poi da poi per ragionare sempre come ragionalice che fa tanti riferimenti a quelli che è la cultura pop anni 80 in poi non so se qualcuno di voi ha mai visto robin hood un uomo in calzamaglia di melbrux quando c'è robin che entra nella stanza di lady marian non si vedono da anni e lui vuole finalmente congiungersi con la sua amata e si sente un orrendo rumore di ferraglia perché lui ha sbattuto contro quella che è la cintura di castità di lady marian che gli dice robin vero che durante le crociate hai tenuto la chiave e lui la guarda e dice no non ce l'ho disperato quindi e quindi da lì oltre a una citazione un po più volgare che viene dalla parodia del signore degli anelli lo svarione degli anelli un altro grande capolavoro sul sul genere dove c'è arwen che consegna il suo ciondolo ad aragorn dicendogli che quello serve a una specifica funzione ovviamente sempre a sempre sfondo sessuale partendo da queste da queste due cose ho pensato io la prendo lunga e ci abbiate pazienza seguitemi perché poi arrivo al punto non mi dimentico la domanda ci provo almeno altrimenti sono i prodromi anche questo della malattia e quindi il fatto che mancasse la chiave la trovava una cosa divertente e che lei rimanesse bloccata con le manette che non riuscisse ad aprirle che lui avesse dimenticato proprio dove aveva messo le chiavi delle manette del loro gioco erotico io la trovavo una cosa molto molto divertente anche perché cioè lei è rimasta lì bloccata se lui si sente male tipo gioco di gerald non è che poteva fare tanto le riflette abbiamo ospiti a cena solo tra due giorni se questo qui è un ictus cade qua mi trovano qui parte in situazione imbarazzante ma comunque mezza morta di fame disidratata non parliamo di altro e quindi ho scelto di usare questa questa chiave qui che è una chiave che poi ho cercato di mantenere nel senso la declinazione un po' ironica proprio perché è un'arma che Alice usa per proteggersi e il mio grosso dubbio il mio grosso pensiero era che potesse essere vista magari come una scelta irrispettosa nei confronti di della malattia nei confronti di chi ci ha a che fare perché comunque è una malattia molto diffusa anche anche in Italia e più o meno tutti abbiamo un conoscente un parente di qualche grado che ne ha sofferto o ne sta soffrendo quindi il mio grandissimo terrore era che venisse vista come una cosa irrispettosa però chi l'ha letto non l'ha percepito così ma ho chiesto proprio appositamente anche a lettori che non conoscevo ti sei sentito offeso è stato un problema ma no l'hanno trovato tutti divertente questa cosa nessuno ha dichiarato di aver mai vissuto la situazione di aver perso le chiavi delle manette ma lì penso che il naturale riserbo venga nessuno lo dichiarerebbe commettiamola così non è realmente accaduto ecco magari non è mai accaduto a nessuno non lo sapremo mai nel gioco di Gerald sicuramente Stephen King insomma ci ha fatto tutta una storia però sarà da qualche parte nel mondo è successo di sicuro bene il romanzo oltretutto è diviso in capitoli che prendono i nomi delle stanze della casa perché è ambientato per la quasi totalità a parte proprio un paio o tre scene all'interno della casa dell'abitazione e ogni appunto capitolo prende il nome di una stanza e accanto al capitolo c'è la piantina della casa che nei primi momenti quindi nel presente nei capitoli iniziali è molto vivida andando avanti con la storia quindi nel contestualmente con l'avanzare della malattia di Alberto svanisce la cartina diventa sempre meno intenso il colore che immagino sia un po' una metafora di quello che sta succedendo ad Alberto che lentamente si allontana dalla vita in maniera ecco delicata diciamo e io innanzitutto volevo chiederti come mai hai scelto di ambientare tutta la storia all'interno della casa e questa scelta di dividere i capitoli per stanze perché alla fine la storia noi la vediamo tramite le stanze in cui loro vivono i loro momenti ed ero molto curiosa di sapere come mai di questa scelta anche qui ormai avete capito ci sono varie motivazioni adesso la prendo alla lontana pure da quella è già disperata guarda oh no di nuovo tranquilla allora intanto la questione della mappa è stata una bellissima idea in fase di lavorazione del romanzo proprio da parte delle plurali perché la mappa che voi vedete è la prova provata delle mie incapacità nel disegno perché me l'ero disegnata io su un quadernetto giusto per avere un'idea della disposizione delle stanze e per non far muovere i personaggi a caso che è una cosa che consiglio sempre perché sennò poi ti trovi dei movimenti assolutamente impossibili se non hai una mappa davanti e quindi questa casa è proprio disegnata tutta lunga perché io so fare solo i rettangoli e i quadrati le mie competenze di interior designer si fermano esattamente ecco vedete nessun architetto avrebbe mai progettato una cosa simile quindi va bene non è realistica forse tantissimo e due gli ordini di motivi per cui ho scelto questa cosa uno è perché appunto nella lunga gestazione del romanzo la buona parte è stato revisionato e riscritto durante il primo lockdown dove ci siamo trovati a conoscere molto meglio le nostre case a riorganizzare gli spazi e a viverli in una maniera completamente diversa io tra l'altro mi sono trovata in casa all'inizio del lockdown che mi ero appena trasferita e non avevo ancora neanche trovato tutte le prese elettriche un giorno facendo lezioni di yoga con la mia insegnante online che ero sdraiato ho guardato c'era sotto un tavolo tutta una fila di prese io pensavo di non avere le prese in cucina guarda un po', quindi c'è stata una nuova conoscenza della casa e dividerla per ambienti mi sembrava anche un buon modo per mostrare il prima e il dopo perché l'ambiente è sempre lo stesso però cambia l'occhio con cui i personaggi lo guardano se prima sono momenti gioiosi di complicità della coppia nel dopo vanno ridimensionati e riorganizzati per seguire quelle che sono le necessità del malato e quindi c'era questa contrapposizione che trovavo interessante la seconda motivazione invece che non andrebbe detta perché insomma è un'autocritica mettiamola così io ho studiato archeologia all'università e c'era questa teoria archeologica la teoria marxista adesso la ripeto in soldonia poi magari non me la ricordo neanche bene ma nella mia testa funziona così dove tutte le spiegazioni delle prove materiali di una determinata civiltà sono date dall'utilitarismo tra virgolette nel senso questa scultura in questa parte ha questa incisione più profonda perché qui la roccia semplicemente era più tenera e lo scultore era più comodo non c'è nessuna motivazione simbolica a una questione materiale io purtroppo come scrittrice ho un grosso punto di forza che è quello dei dialoghi i dialoghi mi vengono molto bene ed è una cosa che amo fare infatti ha un impianto fortemente dialogico il romanzo sono molto 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 in difficoltà nello scrivere le ambientazioni faccio fatica a dare loro tridimensionalità non riesco a colpire quelli che sono gli aspetti multisensoriali e soprattutto preferisco lasciare molto all'immaginazione di chi legge la costruzione dell'ambiente per il quale servono proprio poche pennellate in realtà sono un'appassionata di narrativa brevissima quindi meno c'è più è richiesto a me come lettrice di attivarmi nella lettura più sono contenta e quindi non sapendo descrivere le ambientazioni avendo paura ad avventurarmi fuori dalla casa perché sapevo che non sarei stata abbastanza efficace ho detto sai che c'è? stiamo dentro le mura stiamo nella comfort zone proprio che in qualche modo la porto a casa e la spango ecco queste sono le due motivazioni una più letteraria invece c'è una proprio più di lavoro tecnico diciamola così ho capito beh perché in effetti l'impostazione sembra quasi teatrale cioè potrebbe essere una pista teatrale perché ci sono tutte le ambientazioni nella casa mi sarebbe tanto piaciuto originariamente nasceva come l'idea di farne una sceneggiatura teatrale ma anche qui mi sono scontrata con i miei limiti e non sono capace e quindi dovrei fare un mi piacerebbe mi piacerebbe imparare dovrei fare corsi dovrei leggere più sceneggiature e quindi ho cambiato rotta insomma felicemente primo momento romanzo chissà in futuro bene allora c'è un capitolo nella parte dedicata al presente chiamato il giardino nel 2015 quindi non il giardino del passato ma il giardino durante l'avanzamento della malattia di Alberto in cui si apre la porta a un tema molto spinoso qui in Italia cioè il fine vita infatti è il 14 di febbraio San Valentino e Alice e Alberto sono in giardino perché Alberto sta scrivendo il suo testamento biologico e esprime la ferma volontà di non voler continuare a vivere con l'avanzamento della malattia quando la malattia insomma arriverà a un punto tale per cui lui non sarà più capace di intendere volere avrà bisogno di una mano anche per i minimi insomma le minimi attività vitali il problema è che lo sanno i protagonisti lo sappiamo noi quello è essenzialmente carta straccia è un testamento che non avrebbe nessuna utilità e è un grande problema soprattutto per malattie come quelle di Alberto che l'hanno colpito insomma in età giovanile rischiano di avere una degenerazione molto lenta cioè non è una malattia fulminante e molto dolorosa perché comunque si arriva a un momento tale per cui si è completamente incapaci di intendere volere c'è bisogno di una mano per fare tutto solo che appunto in Italia questa legislazione sull'etanasia non esiste ancora e quindi ovviamente noi oggi qui non possiamo risolvere questo problema però io volevo chiederti di insomma esprimere in tal senso visto che comunque hai parlato di una storia che alla fine questo problema lo tira fuori non per trovare soluzioni perché noi qui non ce la faremo evidentemente no ma perché è giusto darci uno stimolo per continuare a lottare e per ottenere a un certo punto una legislazione che ci permetta di finire la nostra vita in maniera dignitosa e non ricorrere a suicidi violenti o degenerazioni di malattie infinite sì abbastanza perché poi sempre per la questione della lunga gestazione quando ero in fase di riscrittura e revisione era il momento della raccolta firme per il referendum sull'eutanasia sono state depositate oltre 1.200.000 firme era l'ottobre del 2021 mi pare e il febbraio dell'anno dopo la Cassazione non ha accettato il deposito firme andrà poi riformulata ma è una strada lunga è una strada difficile non so neanche quanto sia realizzabile ma ripeto qui effettivamente non abbiamo né le competenze né le possibilità ovviamente per trovare una soluzione è una riflessione più a carattere generale da firmatrice di quello che era il referendum quindi da vox populi mettiamola semplicemente così che non va né a toccare né quelle che sono le convinzioni religiose o la posizione politica di ciascuno che sta poi alla propria etica alla propria intimità alla propria morale non entro nel merito la questione qual è? è che qualsiasi parte noi andiamo a guardare da quale parte della barricata si stia si rivendica sempre il concetto di libertà voglio essere libero di dire voglio essere libero di esprimermi c'è il libero arbitrio noi siamo dotati di questo libero arbitrio che però questo libero arbitrio incredibilmente si infrange si ferma su una serie di posizioni su una serie di svolte importanti non obbligatorie ma possibili della vita di ciascuno e sempre per rispondere come farebbe Alice sempre per metterci un'altra citazione di una serie tv anni 90 che non si sa mai che è Streghe uno dei prodotti più belli di urban fantasy mai realizzati nella storia e che mai realizzati saranno che racconta la storia di queste tre sorelle streghe a San Francisco casomai qualcuno non l'avesse mai visto e queste tre streghe hanno l'angelo custode il loro angelo bianco che è poi il marito di una di queste tre che fa l'angelo nel senso è buono e l'inverosimile ovviamente un fantasy quindi è diviso tra buoni e cattivi senza grossa contaminazione tra le due parti e lui a un certo punto esprime questa frase è per questo il male ama tanto il libero arbitrio perché permette agli esseri umani di fare scelte sbagliate ecco il libero arbitrio sembra che quando si tratta di situazioni di questo tipo viri inevitabilmente verso il male quindi è sbagliato decidere per se stessi per quella che può essere una fine dignitosa della propria esistenza della propria esistenza terrena e così per tutta una serie di altre ripeto decisioni che non devono essere obbligatorie o che succederanno per forza nel corso della vita ma che potrebbero succedere quindi quello che sta alla base è la rivendicazione di una libertà personale cioè nel momento in cui io faccio qualcosa che non va a ledere gli altri non va a ledere chi è intorno a me è chiaro che lede qualcuno nei momenti in cui scelgo il percorrere suicidio assistito e eutanasia è chiaro che chi resta ne soffre ma nei momenti in cui sono ancora in grado di decidere per me io voglio poter decidere per me mi sembra un ragionamento talmente tanto basilare talmente tanto veramente che dovrebbe essere alla base di qualunque decisione possibile che mi sembra strano che ancora siamo qui a discuterne quando proprio facciamo tutto questo parlare di rivendicare la propria libertà rivendicare il libero arbitrio però solo su alcune cose su alcune cose va bene su alcune cose no quindi perché no? perché non lo possiamo fare nel momento in cui posso decidere ovviamente con degli step ovviamente con quello che poi anche il supporto per chi resta perché in tutto questo c'è sempre chi resta sia per chi va che per chi resta un supporto, step, controllo e tutto non capisco il perché no non lo vuoi fare non sei obbligato a farlo ma non togliere a me la libertà di farlo è questo che ripeto questo è proprio basilare da Vox Populi che non riesco ancora a capire non riesco ancora a mettermi in testa il perché non sia possibile speriamo sia possibile un giorno non lo so ma speriamolo veramente veramente tanto Emma e qui decidono per l'inizio della vita e la fine della vita quanto pare quello non è possibile che avere libertà noi infatti poi lo diceva già 30 anni fa Luciano De Crescenzo che è un divulgatore che ho sempre trovato molto divertente comunque poi al netto della qualità o meno delle opere questo è a discrezione e lo diceva tanto che parliamo tanto di allungare la vita quando dovremmo allargare la vita cioè migliorarne la qualità con l'utilizzo della sensibilità e questa sensibilità passa anche questo è un'aggiunta mia lui non si era spinto così così là su argomenti così spinosi e anche decidere di poterla concludere in maniera dignitosa in maniera buona perché che vita è quando a un certo punto non hai più nessun tipo di controllo sul tuo pensiero sul tuo corpo sulle tue azioni su niente cioè vieni proprio a togliere quella che è la definizione basilare dell'essere umano e allora perché no perché non posso decidere posso rispondere in maniera provocatoria perché abbiamo il Vaticano qua no sto scherzando sto scherzando è una battuta di carattere ironico no no sto scherzando comunque prima di salutarci io volevo fare un'ultima domanda e ricordare che di sopra c'è il banchetto delle plurali e le editrici sono felicissime di fare due chiacchiere con voi potete spulciare tra il loro catalogo tra l'altro volevo dirlo ma perché a me ha colpito personalmente tantissimo c'è una collana chiamata le bussole che fa piccole guide femministe a portata tascabile quindi date un'occhiata perché è veramente molto originale interessante prima di salutarci Giulia allora io direi che potremmo concludere chiedendoti come mai hai chiamato il libro la monogamia dei calzini viene da una canzone di Vinicio Capossela il paradiso dei calzini dove vanno a finire i calzini quando perdono i loro vicini che è anche la frase in esergo del romanzo secondo me da tanto l'idea della coppia il calzino io avevo tutti i calzini dello stesso colore perché appunto per evitare il problema della perdita quindi ho un sacco di calzini promiscui in casa mia girano losche strane tra i calzini tresche strane tra i calzini loschi mi è sfuggito e quindi mi dava l'idea se un calzino rimane da solo poi che cosa fa soprattutto se poi aveva trovato il suo match perfetto come può andare avanti questo calzino resta da solo nel cassetto come se la cava cosa fa e quindi ho ragionato così su quello che era il rapporto di coppia appunto del match perfetto e che cosa succede se questo match in qualche modo viene a incrinarsi quella canzone mi aveva colpito tantissimo sì sì e appunto poi vista la perdita di calzini endemica proprio un'epidemia ma per tutti mi sembrava abbastanza evocativa grazie Giulia io ricordo tutti quanti che il suo libro si può acquistare di sopra al banchetto delle plurali e vi ringrazio grazie grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille Grazie.